Musica Lucilla Anastasio, avvocato, una delle relatrici che questa sera presenterà il libro di Raffaella Bonsignori. Lucilla, ti è piaciuto questo libro? Io non voglio anticipare nulla, ma ti dico solo una cosa, lo rileggerei. Appena l'ho finito, adesso ricomincio, lo rileggo. Un libro fantastico, meraviglioso, mi ha tolto tutti i pensieri negativi dalla testa, se mai ne avessi avuti. È un libro magico, straordinario. Lei ha un garbo nello scrivere veramente straordinario, ripeto la parola straordinario, perché ti trasporta in questo mondo fantastico e non conosci più il limite tra la realtà e la fantasia. Con un trasporto, con un entusiasmo, con una passione, veramente non comuni. E poi ho scoperto una collega amica, una scrittrice veramente fantastica. Quindi anche gli avvocati sanno far sognare, quindi è un libro che fuoriesce dall'immagine tetra delle aule di giustizia. Com'è questo avvocato protagonista, Ralph Bennett? Ralph è un uomo ingabbiato, a mio avviso, è un uomo contenuto, è un uomo che l'autrice attraverso proprio un'introspezione, vera e propria, un'introspezione nel fantastico, nella fantasia, lo riporta nella realtà. E alla fine il protagonista scopre che le cose importanti sono altre, sono gli affetti, la famiglia, l'amicizia, l'aver dato, l'aver ricevuto, i sentimenti, le relazioni. Ed è questo che traspare nel libro e quindi è veramente emozionante la lettura. Grazie. Avvocato Anastasio, che cosa significa essere un avvocato impegnato socialmente? Lei è candidata per le prossime elezioni al Consiglio dell'Ordine. Il tema di quest'anno è l'identità spirituale e sociogiuridica degli uomini di valore. Che cosa significa essere un avvocato impegnato al servizio degli altri? L'avvocato per definizione svolge una funzione sociale. È per eccellenza il mediatore, colui che media tra le istituzioni e le esigenze e le richieste del cittadino. Quindi per definizione ricopre una funzione sociale. È proprio in questo senso che quando ci si affidano le persone, noi dobbiamo avere gli strumenti, oltre alla competenza, anche la sensibilità di comprendere quelle che sono le stanze che ci vengono fatte. La componente umana è essenziale, oltre a quella professionale. Quindi quale augurio per questo nuovo anno e per questo nuovo Consiglio dell'Ordine? L'avvocatura deve riacquistare la sua autorevolezza, la sua importanza, deve continuare ad avere un dialogo costante con le istituzioni, col governo, al fine anche di migliorare tutte le situazioni che noi viviamo quotidianamente sul campo. Ed è questo che dobbiamo fare in assoluto. Ricordiamo ai colleghi che ci stanno ascoltando su Liberi.tv che questi incontri sono anche accreditati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Rieti, Reggio Calabria, Massacarrara, Locri. E il premio è il premio letterario giuridico Gli Usarte Libri, un ponte della legalità, edizione 2018-2019. Grazie a tutti.